lei è mesh una cagnolina di 5 6 anni arrivata qui in canile all'inizio della scorsa gestione questa cagnolina è di una timidezza di una insicurezza che non potete immaginare anche se non si direbbe lei ha paura dei tuoni a paura della pioggia a paura del vento e soprattutto a paura degli sconosciuti ha sempre vissuto sin da quando è diventata grande non nel box ma nello spogliatoio dell'infermeria del canile solo che adesso siccome stanno facendo dei lavori all'interno dell'infermeria è passata nel box e quindi ha subito un cambio nelle sue abitudini purtroppo necessario e così e quindi si ritrova dopo tanti anni che non sapevo nemmeno cosa fosse il box all'interno di un box e sono venuta a trovare la scantina sapendo quanto è timorosa fortunatamente quando mi ha vista era felice perché mi conosce anche un po' piccola mesh non ti ho mai proposta per tanto tempo ma ora tocca anche a te guardatela è dolcissima con gli altri cani dunque fa un po' la prepotentina però nulla di grave ovviamente lei in canile non ha punti di riferimento ma voi potreste esserlo per questa piccina fate un pensierino per lei è una taglia media sui 20 chili poco più già sterilizzata sta bene in salute ha solo un piccolo problemino praticamente lei soffre di dermatite atopica ma abbiamo trovato un farmaco una sorta di vaccino che l'ha fatta star bene già la seconda somministrazione e quindi non si gratta più e non perde il pelo a maggior ragione proprio per questo problema non deve rimanere in un canile lei deve andare in una famiglia che si prenda cura di tutto ciò che è necessario per farla star bene ma soprattutto che le dì affetto piccina per la sua timidezza si è sempre pensato di evitare magari di mandarla lontano perché è una cagnolina chiaramente a rischio fuga però come potete vedere viene vicino è proprio bisognosa di coccole e di attenzioni e da due occhi meravigliosi che parlano e la speranza io la vedo in questi occhi chissà se riuscite a vederla anche voi adottatela dunque fate un pensierino serio per lei chiamatemi e faremo in modo che mesci vi raggiunga un consiglio voglio darvi dal momento che lei è tanto timida immaginiamo che al guinzaglio andando fuori dovendo uscire necessariamente per sporcare fuori possa dare qualche problema quindi se avete un giardino però ben recintato perché questa piccina si arrampica lei è proprio atletica come cagnolina quindi un bel giardino sicuro perché altrimenti a questo punto sarebbe meglio l'appartamento così potrà uscire e fare i suoi bisogni nel giardino all'inizio naturalmente a forza di stare con voi con l'ausilio di un educatore non è escluso che impari ad andare al guinzaglio noi non escludiamo niente perché abbiamo visto avvenire miracoli con i cani cani chiusi che non manifestavano interesse per niente sono andati in famiglia e sono diventati sicuri ci hanno proprio veramente scioccato in senso positivo non immaginavamo quindi a queste creature bisogna dare sempre una possibilità naturalmente dovete essere persone molto ottimiste che non vi arrendete la prima difficoltà e che conoscete i cani quindi sapete che loro hanno tante risorse nascoste dovete soltanto farle uscire guardandoli con con uno sguardo sempre sorridente sempre positivo perché altrimenti loro si sentono giudicati come i bambini capite dunque mesh questo è il tuo primo appello di adozione in bocca al lupo secondo me ce la puoi fare io ci credo ciao piccola mesh ciao ciao